I vantaggi della chirurgia robotica attraverso i robot in oncologia testa-collo sono anche questi tanti, ma due sempre sono i principali che rendono agevole al chirurgo la possibilità di entrare in cavità anatomiche così ristrette. Il principale è che il braccio robotico che viene fermo, molti sono 3-4 bracci che hanno varie funzioni, funzioni di pinza, funzioni di elettrobistro, funzioni di vista e funzioni di aspirazione, riescono ad entrare nella cavità anatomica dando un'immagine tridimensionale al chirurgo che siede ai piedi del paziente in una sorta di enorme playstation con una testa in una playstation con joystick alle mani e ai piedi che in questo modo riesce a articolare tutti i bracci ed essere preciso per una visione precisissima che non avviene nella chirurgia tradizionale. Il secondo vantaggio è la possibilità di effettuare degli ingressi in cavità ristrette non visibili se non nella chirurgia tradizionale con il taglio del collo e quindi molto spesso non riusciamo a fare interventi della ingectomia parziale sulla glottica, che sono interventi dei tumori localmente avanzati, o del tumore della lingua, delle tonsille e del palato, senza tagliare assolutamente il collo. Negli svuotamenti nel collo si stanno sviluppando molto nei paesi asiatici delle tecniche che attraverso dei piccoli tagli nel collo, laterali, dietro all'orecchio o alla base della bocca si riescono a effettuare tiroidectomia o svuotamenti linfonotali.